Sui finestroni della scuola Mediacolozza c'è il suo nome tra tutti quelli degli studenti ammessi agli esami di terza media. Un esame che una ragazza di appena 14 anni non potrà portare a termine perché è morta la scorsa notte nella sua casa, la periferia di Campobasso, in cui viveva con la famiglia. I genitori l'hanno trovata priva di vita nel suo letto questa mattina. Hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118 che giunti sul posto. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, le cui cause saranno chiarite dall'autopsia che sarà eseguita domani. Con i sanitari del servizio di emergenza urgenza sono arrivati anche i poliziotti della squadra mobile. Una tragedia che ha sconvolto la città, la scuola che la ragazza frequentava e la squadra di calcio a 5 della quale faceva parte. E proprio con la squadra ieri aveva partecipato ad un torneo che si era svolto a Coverciano e dal quale era rientrata poco dopo le 23. Un viaggio tranquillo, ha raccontato uno degli accompagnatori. La ragazza si era divertita, nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto da lì a poche ore. La notizia è immediatamente fatta il giro della città. Davanti alla villetta questa mattina era un viavai di parenti distrutti dal dolore, di vicini, di amici della ragazza, tutti sconvolti affranti per una morte così improvvisa. La studentessa avrebbe dovuto sostenere l'ultima prova di esame, quella orale, proprio in questi giorni. La dirigente scolastica della Colos, Angelica Tirone, raggiunta telefonicamente, si è detta addolorata e costernata. Era una ragazza solare piena di vita, ha commentato, siamo tutti profondamente colpiti, tutta la scuola è al lutto, tutta la scuola è accanto alla famiglia, ha dichiarato la preside. Sulla morte della giovane, il sostituto d'Angelo ha aperto un fascicolo. Intanto la città si prepara a dare l'ultimo e straziante saluto alla ragazza, non appena sarà concesso il nulla posta per i funerali.